appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale oggi parliamo di amici e delle anticipazioni sulla quinta puntata del serale si è appena conclusa la registrazione della quinta puntata del serale di amici giulia si è nuovamente aggiudicata al premio team gli ospiti della puntata sono raul bova e loredana bertè la prima manche ha visto contrapporsi la squadra di rudy zerbi e alessandra celentano a quella di arisa e lorella cuccarini nella seconda manche si sono nuovamente sfidate le stesse squadre dopo aver vinto le prime due manche rudy zerbi e alessandra celentano cercano di ripetersi anche nella terza manche nella quale hanno deciso di sfidare la squadra di veronica peparini e anna pettinelli i tre ragazzi finiti al ballottaggio sono quindi tancredi daddy e martina tancredi viene subito salvato e da rischio eliminazione sono rimasti quindi daddy e martina maria comunicherà ai ragazzi chi è eliminato solo dopo il rientro in casetta per evitare anticipazioni ma sembra proprio che l'eliminato della quinta puntata sia stata martina e voi che ne pensate siete d'accordo con i verdetti della puntata numero 5 fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale al prossimo video ciao